Insieme per fare coro, per stare insieme, il nome proprio è stato detto di questo concerto è proprio Cuori in Coro, proprio per dimostrare la voglia di stare insieme, la voglia di condividere una passione e di portarla avanti. Cuori in Coro è il titolo scelto per il concerto, un evento nella chiesa di Santa Maria delle Grazie per immergersi in un suggestivo percorso corale fatto di autori e periodi musicali completamente diversi. Dopo quattro anni di stop forzato è così tornata la rassegna in canto della voce. La musica corale è a 360 gradi, il coro Cantori di Vita farà la messa di Gounod per core e organo, il coro giovanile voce in canto è invece quattro brani dedicati al coro giovanile di Mario Zuccante e di Francesco Corrias, sempre su testi sacri che si alterneranno dall'imparadisum, un salmo e poi concluderemo invece con un testo con le parole di Dante di Arriveder le Stelle. Ospiti e protagonisti del concerto i cantori del coro escursioni armoniche della scuola di musica di Fiesole. Ci piace girellare un po' fare i vari generi musicali, quindi in particolare faremo dei brani sicuramente sacri, qualcosa di musica popolare e andremo un po' nel passato, andremo a fare un po' di brani di rinascimento, poi torneremo nella musica contemporanea, poi si andrà un po' a giro per il mondo, vi facciamo ascoltare un brano scozzese, un brano africano, insomma ci piace un po' assaggiare generi diversi. Grazie. 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 Grazie.